Mico Italia con i marchi elicenti di Nair è oggi un polo industriale di primaria importanza, specializzato nella ventilazione civile, industriale e impiantistica. Presso la sede di Lonato del Garda viene infatti progettata, ingegnerizzata e realizzata l'intera serie di prodotti che vengono poi distribuiti in tutto il mondo. La qualità dell'aria che respiriamo è un fattore assolutamente fondamentale per il comfort abitativo, ecco perché Mico Italia si prende cura della realizzazione dei propri prodotti. La temperatura è uno dei fattori principali per determinare il comfort delle persone. Vi possono essere occasioni tuttavia in cui raggiungerle attraverso i sistemi fissi non è possibile e quindi scatta la necessità di avere a disposizione sistemi mobili o da usare al momento. In questo senso gioca a favore il riscaldamento elettrico che ha dalla sua anche i vantaggi di non essere un sistema inquinamento. Caldo Turbo 2000 Tech è l'ultimo termoconvettore con versione Turbo introdotto da Mico Italia Elicent. Un apparecchio da 2000 Watt dotato di comandi elettronici a bordo e con la possibilità di attivare le funzioni tipo quella di programmazione e regolazione delle potenze attraverso un apposito telecomando. Caldo Bagno 2000 TP è un termoventilatore oscillante con la possibilità di programmazione di 24 ore che ha dalla sua anche il grosso vantaggio di essere dotato di interruttore di sicurezza che in caso di ribaltamento ne ferma il funzionamento. Ecco la Caldo Lamp Gold 1500, una lampada, una stufa radiante a parete per esterni ed interni ad infrarossi idonea per riscaldamento istantaneo delle aree circoscritte. Dotata di una resistenza metallogena Golden 1500 Watt che garantisce l'immediata portata in temperatura della lampada stessa. Volcano Pro è una serie di termoventilatori da 6 o 9 kW di ingombro ridottissimo e ideali per riscaldare ambienti industriali e terziari di medie dimensioni con un corpo in lamiera d'acciaio e dotati di funzioni di partenza, spegnimento o ritardati selezionabili dal pannello frontale così come dal medesimo si può comandare il termostato digitale.